www.redigio.it e la storia continua Passaporto per l'aldilà Il bastone di Mosè, i trafficanti dei corpi, è in fuga per cinquant'anni Il bastone di Mosè L'importanza ammessa al possesso delle reliquie rende ragione del fatto che a partire dall'VIII secolo e fino a tutto l'undicesimo esse vengono ricercate con tanto impegno da vescovi, abati e anche laici Nelle sue storie, il monaco Raoul Glaber racconta come attorno all'anno 1000, nel clima di effervescenza religiosa che caratterizza la fine del primo millennio e l'inizio del secondo, furono scoperte reliquie un po' dovunque Quando il mondo intero fu, come l'abbiamo detto, ornato da un candido mantello di chiese nuove, vi fu un momento Nell'ottavo anno dopo il millennio dell'incarnazione del Salvatore, sul quale diversi segni permisero di scoprire, nei luoghi dove erano rimaste nascoste da molto tempo, numerose reliquie dei Santi Come se avessero aspettato il momento di qualche gloriosa risurrezione, grazie a un segno divino, esse furono consegnate alla contemplazione dei fedeli e diffusero nei loro cuori una potente consolazione E cosa nota? Che queste scoperte cominciarono nella città delle Gallie, a Seins, nella chiesa del beato Martire Stefano L'arcivescovo della città vi scoprì, cosa notevole, alcuni oggetti dell'antico culto Si narra che fra le altre scoperte fu rinvenuto un pezzo del ramo di Mosè Alla notizia di queste scoperte accorsero numerosissimi fedeli, non solo dal paese della Gallia, ma anche da quasi tutta l'Italia e dalle regioni di Oltralpe E non fu cosa rara vedere dei malati tornarsene guariti grazie all'intercessione dei Santi Traficanti di corpi La ricerca frenetica delle reliquie alimentò un vero e proprio commercio fra alcune città desiderose di allargare il loro santo tesoro E quelle, come ad esempio Roma, ricca di sepocri, dei maltiri, che ne erano particolarmente fornite Alcuni chierici romani non esitarono a trasformarsi in autentici mercanti di reliquie Uno dei trafficanti più conosciuti nel IX secolo è un certo Deodato Diacono della chiesa di Roma è responsabile di una delle zone cimiteriali della città In realtà Deodato e i suoi suoi soci, tra i quali i suoi due fratelli, gestivano una società di commercio molto organizzata Durante mesi invernali raccoglievano le reliquie del cimiteri romani e poi, nelle stagioni più miti Quando era più facile passare le Alpi, inviavano convogli per portare la merce ai loro clienti Deodato chiedeva un prezzo alto per le sue reliquie E finché non aveva ricevuto la certezza di un pagamento immediato, rimandava le consegne Uno dei suoi clienti più famosi, grazie al quale conosciamo così bene questo strano mercante Fu Eginardo, il famoso biografo di Carlo Magno Che acquistò le reliquie dei Santi Pietro e Marcellino per la sua fondazione di Seligengstad Il campo d'azione di Deodato non si limitava alla Germania e alle regioni settentrionali sotto il controllo franco Ma comprendeva anche il sud Italia, come attesta la presenza e attività sua dei suoi soci a Benevento Alcuni di questi mercanti non esitavano, per raccontentare i loro clienti, a compiere autentici furti sacri Così, nella prima metà del IX secolo, un certo Felice, un chierico franco che viaggiava attraverso l'impero commerciando reliquie Vendette all'arcivescovo di Magonza il corpo di San Severo, vescovo di Ravenna Per dimostrare l'autenticità delle reliquie, raccontò di averle rubate nel monastero Ravennate di Santa Pollinare E lì sarebbe venuto l'incontro con l'arcivescovo che gli avrebbe ceduto il suo cavallo per sfuggire i monaci che si erano nel frattempo a corte del furto In cambio, Felice, concluse con il prelato un accordo garantendogli la vendita del prezioso corpo E in fuga per cinquant'anni L'ampio fenomeno del trasferamento delle reliquie, verificatosi dal IX-XI secolo, assunse in alcuni contesti un aspetto drammatico Valga come esempio ciò che accade in Francia nei secoli IX e X di fronte alla calata dei normanni Nel tentativo di cautelarsi dagli invasori, i monaci si impegnarono al massimo nella protezione delle loro ricchezze materiali e spirituali E in particolare delle casse, spesso preziosamente ornate, nelle quali erano conservate le reliquie dei loro santi protettori Il caso più famoso di queste traslazioni per motivi di sicurezza è quello delle reliquie di San Filiberto, vissuto nel VII secolo Il santo era venerato dalla comunità monastica di Noirmoutie una piccola isola sulla costa atlantica al sud della Bretagna sulla quale aveva fondato un'abbazia dove morì attorno al 685-690 Nell'819, a causa della sua posizione particolarmente esposta l'abbazia fu pericolosamente minacciata dai normanni al che, temendo le loro incursioni i monaci decisero di fuggire portando con loro il corpo del santo ebbe allora inizio una lunga epopea narrata in seguito dal monaco Ermentario in un racconto delle Translaciones et Miracula del Santo che condusse le sacque reliquie all'isola bretoni della Borgogna dove giunsero più di 50 anni dopo la loro partenza Il corpo fu prima portato nei pressi di Nantes dove fu eretta una chiesa che esiste tuttora poi, di fronte allo sbarco normano trasportato sempre più lontano dalla costa e dai fiumi mediante cui i normanni penetrarono all'interno in Anjou 858, nel Poitou 863, nell'Alie 872 e infine a Tournoux nella Borgogna 875 dove fu costruita la splendida chiesa abbaziale che costituisce ancora oggi un magnifico esempio di architettura romanica Questa lunga peregrinazione fu accompagnata da numerosi eventi miracolosi e contribuì alla diffusione del culto di Filiberto nella Francia centrale www.redigio.it 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 www.redigio.it